cappellino svedese modello 59 in tessuto di cotone non imbontito quindi riteniamo estivo fitte cuciture sulla visiera molto spessa cotone da altri tempi molto molto pesante cucito finemente in varie parti una due tre quattro parti addirittura e cinque con la ribaltabile sotto copri orecchi sei con questo rinforzo qua sette con la visierina interna parasudore molto molto solido all'interno è anche foderato con cotone troviamo la taglia riportata con un label cucito e alcune scritte con alle volte le date di produzione 1964 in questo caso questa parte si può anche rovesciare all'interno e questa dalla parte sopra così che una volta lo stato assumerà questa forma